In questa domenica dell'Epifania esplode la gioia. Giunti al culmine del tempo di Natale, arriviamo anche allo zenite della gioia. Pregustata dai pastori, la gioia diventa per i magi estremamente grande, secondo la traduzione letterale dell'originale greco. Perché? Fateci caso, essi gioescono per aver visto di nuovo la stella. Non sono ancora entrati nella casa dove si trovava il bambino con Giuseppe e Maria. La gioia è dunque precedente all'incontro con Gesù. Come? Vuoi dire che si può sperimentare una gioia grandissima anche senza vedere Gesù? Sì e no. Per comprendere dobbiamo metterci ancora un'altra volta sotto la parola perché ci dica la verità. Se non riusciamo a situarci nel Vangelo forse ci commuoveremo per un episodio che sempre ci ha scaldato il cuore, ma non ci sposteremo di un centimetro. Ogni particolare delle liturgie di avvento e di Natale, ogni parola proclamata, ogni segno, compreso quello del presepe, ci mostra l'incarnazione come l'umiliazione di Dio. Abbiamo avuto in questi giorni dinanzi agli occhi un Dio bambino, dolce, tenero, ma piccolo, debole, fragile, bisognoso di tutto. Un Dio che fin dall'inizio ha scelto l'ultimo posto, quello che tu e Dio non sopportiamo. Sii sincero, credi davvero che un neonato può salvare la tua vita? Al netto del sentimentalismo intendo, eh? Al netto dei risposti da manuale e da catechismo di quelli che partono in automatico e dicono certo l'umiltà, la semplicità, la piccolezza, la povertà, è così che si salva il mondo, non sono mica i potenti, i ricchi, i politici, bla bla bla. Lo dice lo riporti sempre anche Papa Francesco. Su via, che domande fai? Ok, va bene, hai studiato. Leggi anche le parole del Santo Padre. Ripetiamo la domanda in un altro modo allora. Credi davvero, per averlo sperimentato, che il tuo matrimonio può riuscire bene e seminare felicità e vita solo se ti inginocchi dinanzi a tua moglie e a tuo marito, come l'ultimo della casa? Credi davvero che Dio vuol fare della tua vita un prodigio accompagnandoti all'ultimo posto? Lo credi vero per i tuoi figli, i tuoi parrocchiani, il tuo fidanzato? Lo ripeto, l'ultimo posto, quello dell'irrilevanza, del rifiuto. Insomma, come scriveva San Paolo, il posto riservato al secchio della spazzatura, in balcone o sotto il lavandino della cucina e che nessuno lo veda. Il posto di un neonato. Si nomina amministratore delegato neonato? O presidente della bocciofili o capoclasse? O capitano di una squadra di calcio? Gli si lavoni o della sicurezza americana? Si chiedono consigli a un infante? Lo si consulta devotamente aspettando che dà le sue labbra a coli fragrante la sapienza? O forse gli si chiede di che colore desidera il ciuccio o di che marca preferisce i pannolini? Magari qualcuno ha visto un neonato decidere se la sera preferisce la poppata classica o un buon latte vaccino? Certo, i bambini più piccoli sono e più li si coccola e li si circonda di attenzione. Ma è proprio perché un bambino è l'ultimo di tutti e non può far nulla da solo. Indipendenza zero, autodeterminazione non pervenuta. Mettiamo ora questi esempi in ordine e applichiamoli alla nostra vita. Va bene anche quella passata dove le ingiustizie di sicuro insieme alle umiliazioni si sono sprecate. Ma sarebbe meglio quella di oggi, fresca, perché è oggi che celebriamo l'epifania. Pensi ancora che quel bambino sia fonte di gioia e consolazione? Guarda bene, ripensa al mobbing in ufficio, ai permessi negati, alle ferie esaltate, agli aumenti mai arrivati. Oppure penso all'ultimo incarico che ti ha dato il vescovo, tu che pensavi a quella parrocchia in centro dopo tanti anni di periferia e ti ritrovi in campagna a benevire le mucche. Pensa agli insulti di tua figlia che non ti sopporta. Più sei dolce e comprensivo con lei, più ti vomita in faccia rancore e ti seppellisce nella totale indifferenza. Pensa alla solitudine dopo anni di onorato servizio. Figli e nipoti ti hanno bannato dall'agenda. Natale e Pasqua giusto per dovere, ma poi lunghe ore di lunghi giorni di malinconica solitudine. E questo cancro che ti sta facendo diventare un'altra volta neonato? Omogenizzati e chemio, i capelli radi come quando sei nato. Debole, fragile, impaurito, bisognoso di tutto e l'orgoglio frantumato nell'incontinenza. E gioia tutto questo? Perché il Natale ci annuncia questa gioia, non altre. Dio che si fa uomo per prendere la carne degli ultimi, della spazzatura del mondo, dei peccatori. Perché diciamolo e anche riconosciamolo, all'ultimo posto, ci ritroviamo tutti innanzitutto a causa dei nostri peccati. Eravamo stati creati per essere i primi alla destra di Dio, immagine del suo splendore, somiglianza della sua bellezza. E invece l'inganno del serpente ci ha sbattuti qua giù, in fondo, sepolti dal dolore e dall'ira, dalla frustrazione e dall'insoddisfazione. Ebbene, esattamente dove siamo è sceso Dio. L'hai visto? Forse no. Forse no perché è impossibile per la nostra carne credere che Dio, il Creatore, l'Altissimo, l'Onnipotente, si sia infilato in questa mia carne ferita, fetida, ribelle e vinta. Per questo continuiamo a rifiutare di umiliarci dinanzi al fratello. Non ci inchiniamo, no. In chiesa, davanti al bambinello del presepio, sì, ma in casa, di fronte alla sua cera o la nuora, nemmeno se mi puntano una pistola alla tempia. Ma questo significa essere ancora dei pagani, come i magi, e quindi essere dentro alla parola di questa solennità. Se siamo qui ad ascoltare il Vangelo e la predicazione, se andiamo a Messa, se ci fermiamo a pregare e nel quale qualcosa ci dice che così come stiamo vivendo non va bene, allora significa che siamo in cammino come i magi, anche loro inquieti e insoddisfatti. Altrimenti, così ricchi e sapienti come erano, chi avrebbe fatto fare di uscire e incamminarsi per un viaggio così precario, seguendo una stella che appare, scompare, senza neanche immaginare la meta? avevano visto la stella di un altro re, uno che doveva aver innescato in loro la speranza di sperimentare finalmente la pienezza che non avevano raggiunto, la gioia che il potere e i beni non gli avevano recato. Una stella è un re, dunque, più importante di loro, tanto da muoversi per venire ad adorarlo. Come è successo a noi, che abbiamo ricevuto un annuncio come una stella brillante di luce nella nostra vita e abbiamo creduto e ci siamo messi in cammino nella Chiesa, ma ora forse abbiamo smesso di ascoltare o forse è stato Dio stesso a nascondersi come nel Cantico dei Cantici per puro amore nostro, per tirarci fuori desiderio, per tirarci fuori l'angoscia, per tirarci fuori la nostalgia di lui. Sappiamo come i magi di essere vicini alla felicità, ma siamo peccatori, orgogliosi e testarti. Ebbene, oggi, di nuovo brilla la stella, proprio sopra il bambino. Ci siamo, eh? C'è ancora misericordia per noi, Dio non si è stancato. Ancora brilla la luce della sua parola ad annunciarmi che Dio si sta facendo carne in me, oggi, ora. Questo è l'annuncio della Chiesa, questa è la predicazione, la stella che viene per me ed è la fonte della gioia incontenibile dei magi e mia, prima ancora di vedere il Signore, ma perché ci porta a vedere il Signore. Senza questa gioia che ridesse al desiderio di convertirci e diventare i figli per cui siamo stati creati non entreremo mai nella casa, nella comunità cristiana, per imparare ad inginocchiarci davanti a Dio incarnato nella nostra vita e nei fratelli. Abbiamo bisogno di questa gioia, di vedere la stella, e la stella viene ancora a noi. Essa è il segno della fedeltà di Dio, perché possiamo anche noi ripetere, insieme alla grande poetessa Alda Merini. Sono sempre rimasta fedele alla mia meraviglia, mi meraviglio di un peccato impunito e della grazia inattesa. Questo dice la stella. Quanti peccati impuniti e quante grazie inattese, anche oggi, anche questa domenica. Allora coraggio, ascoltiamo il Vangelo, camminiamo nella fede e guardiamo in alto dove splende la stella di Gesù e dice a scu' di noi la stella di Gesù e della nostra vita, della nostra famiglia, della nostra storia, perché è lì che Dio si incarna. Lasciamo allora che la gioia per la pazienza infinita di Dio ci conduca giorno dopo giorno ai piedi della mangiatoia, dove in ginocchio, umiliati, possiamo accogliere il suo amore. Buona festa dell'Epifania.